Le ultime dichiarazioni del ministro del petrolio iraniano sono emblematiche delle contraddizioni del mercato del greggio. Da una parte, Bijan Zanganeri afferma la volontà di Teheran di pompare oro nero sul mercato al ritmo di 500.000 barili al giorno in più, non appena le sanzioni verranno tolte. Dall'altra, però, chiede ai membri OPEC di considerare un taglio della produzione complessiva per riportare i prezzi a livelli accettabili. Nonostante il costo rimanga oggi intorno ai 50 dollari al barile, lo stesso Zanganè ha espresso dubbi su un intervento già al vertice di dicembre.